Video su Scribble.io Un altro video di Scribble.io Ma guarda qua c'è un altro video di Scribble.io Ebbene si, oggi andremo a giocare a Scribble.io Ma prima ragazzi vi ricordo di iscrivervi e mi raccomando di attivare la campanella per essere aggiornati su tutti i miei video E adesso inizierò a fare anche delle live In più ragazzi mi avete chiesto in moltissimi di fare video dove appunto faccio vedere come registro, come monto, come carico, come faccio miniature per i miei video Ebbene si, il prossimo video o il prossimo ancora, non lo so, si tratterà appunto di questo Quindi mi raccomando state attivi sul canale Cominciamo Oh, finalmente anch'io ci gioco Io perdo Color cacca, perfetto Let's go Non si può fare a meno Questa qua ha 10 Maglietta 10 e 55 Orologio Etichetta Etichetta Giallo Cinese Peperone Cos'è? Dimmi cos'è sta roba Cos'è ombrello? Ah Fungo What the fuck is this? Campana E dirlo prima Quella è una campana Madonna Quando disegno io Raga Quando adesso inizio a disegnare io Vedete cosa sono i veri disegni Pompelmo Sole Vabbè era fa Era difficile questa Tre parole Ma stai scherzando Uh Borsa Della Spesa No Cos'è? Eh Perché c'è un si Cos'è sta roba? Come vanno a indovinare Po Eh Pozzo di eh Pozzo Pozzo dei desideri Come fai? Devi mettere almeno delle monete Ma non lo so Daglie A dinosauro Ma almeno scrivere bene Tricera Velocira Ve Velo C Raptor Quello vuol dire Veloci Raptor? Se quella scritta vuol dire Veloci Raptor Io sono Obama Vabbè Tra l'altro sono Quinto Quinto su sette Beh Pensavo peggio Non so neanche il podio Ragazzi Devo impegnarmi un po' di più Impegniamoci un po' di più A lente Di In Gra Di Mento Lente Che min Cosa hai fatto? A lente In Gra Di Mento C'era l'apostrofo Io pensavo Ah sì Vabbè L'ho visto adesso L'apostrofo Oh Sono io Sono io Elezioni Pagina Elezioni Scintille 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 sono io Sono io le scintille Le faccio io Questo è un fuoco Sì Si è capito che Questo è un fuoco Perfetto Le scintille Pop 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 Questi Queste Pum 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 Fiammiferi Meteorite Meteorite Ok qualcuno l'ha indovinato Qualcuno l'ha indovinato Meteorite Non è un meteorite M E T E O R It E ci sta anche Ma non è un meteorite Ti Le To Madò Evviva Dai però disegna Punti Vetro Buco Cacca Iman TV Vasca Cos'è sta roba Piselli Per Co Allora Abbi pazienza Per Dire Che quelli Sono Dei piselli Hai dovuto fare Una scodella Per 20 minuti Ho visto i due l Ecco perché Mi ho pensato a piselli Cato La E Buo ragazzi So primo Che volete Dalla mia Pizzo Prima Oh Qualcuno adesso scriverà in chat amazon Scommettere Volpina Pegaso Gelato Subito gelato Sono bravissimo Con i gelati Io Questo Volete vedere Che l'ho indovinato subito Questo E E C'hai indovinato E vabbè era facile Se è un gelato Non è che ci metto tantissimo Però comunque sono secondo E che non è male Quadro Armadio Armadio Italia Italia Bandiera Scacchi Ah Tombola Cos'è già sto gioco Che non mi ricordo Sudoku 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 Come fanno a indovinarlo E Basta Ah nero Negro Beh ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mettete un bel like Commentate Mi raccomando iscrivetevi al canale Noi ci rivediamo Come sempre in un prossimo video Ciao raga